Una gestione della terapia più semplice che aiuti ad assumere regolarmente i farmaci. E questa è una delle principali richieste dei 4 milioni di italiani colpiti dal diabete di tipo 2. Fare attività fisica, mangiare e alimentarsi in un certo modo, controllare la glicemia, poi con una certa regolarità fare visite mediche e controlli ematochimici o di radiologia o di altre forme di laboratorio. Tutto questo è un programma al quale aderire al 100% è sempre più difficile. Oggi è disponibile una nuova terapia, Exenatide a rilascio prolungato, la versione sintetica di una proteina derivata dalla saliva del mostro di Gila, una delle più grandi lucertole del mondo. Exenatide viene somministrata una sola volta alla settimana, consentendo una maggiore libertà nella gestione della terapia, con ripercussioni positive sulla qualità di vita della persona con diabete di tipo 2. Ma innanzitutto direi il vantaggio più nuovo, più inedito, è quello della somministrazione una volta alla settimana. E poi l'altro aspetto molto importante è che questo ormone prodotto dall'intestino, quindi i farmaci che ne sfruttano il meccanismo d'azione, è in grado di promuovere la sazietà. Quindi questo si traduce nella riduzione dell'introito calorico, nella maggiore aderenza alla dieta e nel fatto che il paziente con diabete di tipo 2, che spesso è una persona in sovrappeso o francamente obesa, possa perdere del peso, possa perdere dei chili troppo. Oggi parliamo di un grande esempio di innovazione incrementale. Parlare di questo farmaco voleva anche sottolineare l'importanza che ha una formulazione nuova che aiuta l'aderenza del paziente alla terapia. E la mancata aderenza alla terapia è uno dei capitoli di spesa più importanti. Quindi ricerca scientifica sicuramente, ma anche valore sociale e valore economico. Per bambini e ragazzi la cura del piede è fondamentale per la loro crescita ed anche per un loro adeguato sviluppo sportivo. Oggi come convegno si discute proprio di questo argomento, cioè di quanto sia importante avviare il bimbo e l'adolescente all'attività sportiva nel modo più corretto. Corretto vuol dire sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista proprio anche di controllo posturale e quindi eventualmente con la necessità di diagnosticare eventuali forme che vanno corrette in senso proprio ortopedico. Ortopedico che vuol dire appunto l'arte di rendere eretto e corretta la formazione muscolosclerotica dell'adolescente. Sono sicuramente in aumento le patologie legate allo sport, all'attività sportiva, quindi le patologie traumatiche, le patologie legate al sovrautilizzo del piede e le patologie legate a patologie chiare del piede tipo il piede piatto infantile che verso l'età di 10-11 anni non è stato trattato può dare luogo a delle alterazioni strutturali del piede stesso che possono rendere difficili alcuni sport. Secondo gli ortopedici inoltre va posta la massima attenzione all'età di inizio di una pratica sportiva a livello agonistico. Tutto deve rimanere a un livello di divertimento. Se entriamo nell'ambito dell'agonismo probabilmente ci sono delle regole da seguire soprattutto per quanto riguarda l'inizio dell'attività e se parliamo di attività di bambini quindi fino ai 7-8 anni in quel caso l'ortopedico deve essere chiaramente contrario a un'attività di questo tipo programmata che è prolungata 3-4 allenamenti la settimana, cioè sono più impegnati dei professionisti dello sport. Se rimane nell'ambito del divertimento va tutto bene. All'ospedale Morigia Pellascini di Gravedona ed Uniti sul lago di Como è stato inaugurato il primo centro in Italia interamente dedicato alla riabilitazione dei pazienti con danni cerebrali di origine traumatica o vascolare, come l'ictus, che determinano una condizione di coma e disabilità gravi. A Gravedona, grazie all'utilizzo delle più moderne apparecchiature nel campo della robotica, il paziente con grave lesione cerebrale viene verticalizzato e immobilizzato entro i primi 15 giorni, portando un significativo miglioramento in termini di qualità e di tempi più brevi nel recupero del paziente. Siamo gli unici in Europa a effettuare una verticalizzazione e una simulazione del cammino in pazienti ricoverati in rianimazione entro 15 giorni dall'evento che ne ha portate al ricovero, quindi anche in condizione di coma grave. E questo ha lo scopo di attivare sia un meccanismo di tipo neuroplastico che di ridurre i tempi di degenza in rianimazione e di ridurre i tempi per lo svezzamento dalla cannula tracheostomica. In particolare abbiamo visto come i pazienti sottoposti a questo tipo di percorso riabilitativo presentano un arresto dell'evoluzione della sintomatologia motoria e possono anche ridurre il dosaggio totale dei farmaci che assumono. E la mobilizzazione è avvenuta ponendo i pazienti su una tavola mobile robotizzata che simula il cammino, ovvero pazienti ancora in coma, dipendenti dalle macchine, per la loro sopravvivenza, vengono posti su questa tavola in posizione retta e vengono fatti camminare. Oltre alla riabilitazione per le gravi lesioni cerebrali, altra eccellenza dell'ospedale di Gravedona è il percorso riabilitativo intensivo per le persone con malattie di Parkinson. Su alcuni sintomi, come ad esempio la riduzione dei riflessi posturali di rarrezzamento, cioè la facilità alle cadute, una fisioterapia costante, così come viene svolta in alcuni centri di eccellenza, come all'ospedale di Gravedona, riduce sicuramente il rischio di cadute che sono un momento importante di aggravamento nella patologia. La fibrillazione atriale è un'alterazione frequente del ritmo cardiaco che colpisce un milione di persone nel nostro paese e si associa ad un rischio globale di incorrere in un ictus cerebrale 5 volte maggiore rispetto alla popolazione che non soffre di questa patologia. Nonostante questi dati, in Italia si registra un sottotrattamento dei pazienti affetti da fibrillazione atriale, dovuto principalmente ai limiti dei farmaci finora utilizzati. Il trattamento con anticoagulanti orali indiretti, cioè i cosiddetti cumarinici, implica la necessità di controlli del sangue frequenti. Questo è un deterrente che purtroppo ha portato molto spesso le persone a non accettare questo trattamento e quindi oggi si può dire che sostanzialmente meno della metà della popolazione generale dei soggetti con fibrillazione atriale venga sprotetta dall'ictus in modo efficace. Oggi sono disponibili anche nel nostro paese terapie più efficaci, i nuovi anticoagulanti orali, più maneggevoli e sicuri e che non richiedono controlli di laboratorio. Da qualche mese abbiamo la disponibilità anche in Italia di nuovi anticoagulanti orali, in modo particolare il Dabigatran, il Rivaroxaban e la Pixaban, che non richiedono il controllo periodico della coagulazione e possono essere somministrati a dosaggi fissi senza necessità più di controlli di laboratorio. Il trattamento con un nuovo anticoagulante orale consentirebbe la prevenzione di 11.000 ictus all'anno con un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale pari a 230 milioni di euro ogni anno. Nel nostro studio di analisi di impatto sul budget abbiamo visto che in un orizzonte temporale di tre anni con l'introduzione del Rivaroxaban e la prevenzione dell'ictus nei pazienti con fibrillazione natale non valvolare si riesce ad ottenere una riduzione dei costi di fatto dell'utilizzo di risorse sanitarie. Il trapianto di cellule staminali rappresenta un trattamento curativo contro tumori del sangue come le leucemie e altre gravi malattie. Questo intervento salvavita può avere però serie complicazioni. Oggi per fortuna è disponibile un nuovo farmaco contro una di queste complicanze, potenzialmente letale. Questa procedura è una procedura complessa, è una procedura che comporta dei rischi e delle tossicità e il farmaco che oggi abbiamo finalmente a disposizione si chiama defibrotide è in grado di proteggere il paziente da una complicanza, di curare una complicanza che rappresenta un grosso rischio per il paziente si chiama malattia venoclusiva epatica. Questa complicanza colpisce il fegato nella fase immediatamente successiva al trapianto ed è caratterizzata da un elevato rischio di mortalità. L'intervento con questo farmaco ci permette oggi di risolvere completamente questa condizione in un'elevata percentuale di casi. La riduzione di queste gravi complicanze può favorire un maggiore utilizzo dei trapianti in ambito pediatrico. L'ambito pediatrico offre degli scenari applicativi straordinariamente variegati per l'uso del trapianto perché la procedura è efficace non solo per guarire bambini affetti da leucemie ma anche per malattie geneticamente determinate. Su tutti valga l'esempio delle telassemie in cui il trapianto è ancora l'unica terapia in grado di rendere i pazienti che ne sono affetti indipendenti dal fabbisogno trasfusionale. Da sottolineare che il farmaco, il primo e unico di questo tipo approvato in Europa è interamente frutto della ricerca italiana. Questo è un farmaco che potrei definire completamente made in Italy perché è stato scoperto, sviluppato da scienziati italiani sviluppato da personale italiano e lo sviluppo è stato coordinato da un'azienda appunto italiana che si chiama Gensim. La BPCO, cioè la broncopneumopatia cronica ostruttiva è una malattia respiratoria molto frequente caratterizzata da enfisema e bronchite cronica e dato che la malattia è largamente dipendente dal fumo di sigaretta sono molto importanti i controlli medici e la diagnosi precoce. Questo significherebbe per esempio sottoporsi a un esame molto semplice qual è la spirometria? Esame molto semplice, non invasivo di bassissimo costo che permette nei casi di sospetta BPCO di confermare la diagnosi. La raccomandazione potrebbe essere per tutte le persone che hanno 10 anni di storia di fumo di sigaretta che hanno sintomi quali tosse, catarro cronico che hanno una certa difficoltà respiratoria in termini tecnici si chiama dispnea e la mancanza di respiro, per esempio se cammino vicino a un coetaneo faccio più fatica di questo coetaneo a camminare di riferire questi sintomi al proprio medico di famiglia il quale provvederà a indirizzare il paziente in un ambulatorio di premologia per eseguire l'esame spirometrico. La prevenzione e il trattamento delle riacutizzazioni della BPCO rappresenta un ulteriore beneficio obbligato nella gestione terapeutica della malattia. La BPCO è una condizione patologica cronica e usualmente progressiva cioè significa che tendenzialmente peggiora nel tempo soprattutto se non ci si cura in maniera adeguata. Le riacutizzazioni sono un'accentuazione dei sintomi abituali del paziente quindi aumento della tosse aumento dell'espettorato del catarro aumento della dispnea cioè della sensazione di mancanza di respiro superiori ai sintomi normali che il paziente ha tutti i giorni e si possono prevenire in vari modi l'obiettivo è un po' complesso ma per esempio già la terapia inalatoria che i pazienti fanno abitualmente con i farmaci broncodilatatori eventualmente con le associazioni di più farmaci broncodilatatori o l'associazione con broncodilatore e corticosteroide inalatorio servono per prevenire circa un terzo delle riacutizzazioni è molto importante poi evidentemente modificare i propri steli di vita quindi smetterla col fumo di sigaretta questo è il primo provvedimento che si deve prendere nella gestione del paziente BPCO la vaccinazione antinfluenzale è estremamente importante perché riesce anch'essa a prevenire le riacutizzazioni e altra cosa molto importante nella correzione di steli di vita cercare di essere meno sedentari possibili le terapie contro la BPCO sono generalmente inalatorie cioè il paziente deve aspirare il farmaco in modo che raggiunga bronchi e polmoni è quindi importante poter utilizzare lo strumento adatto e il più semplice da usare per noi medici in generale soprattutto per gli pneumologi l'utilizzo del farmaco del device è un binomio inscindibile noi medici siamo sempre molto attenti al farmaco ma anche il device è molto importante nell'ambito delle malattie respiratorie siamo fortunati perché negli ultimi anni la ricerca ha fatto dei passi avanti e per la stessa molecola abbiamo spesso a disposizione diversi device e questo ci permette di personalizzare in qualche modo la terapia faccio l'esempio del teotropio che è una molecola che conosciamo da tanti anni e che ha cambiato il modo di approcciare la BPCO per questo tipo di molecola che è indicata in pazienti con BPCO con bronchite cronico-ostruttiva oggi abbiamo a disposizione due diversi device uno è un device più tradizionale in polvere secca e l'altro invece utilizza un device nuovo con una tecnologia completamente innovativa che si avvicina in qualche modo agli inalatori pressurizzati ma che ha dei vantaggi in più quindi siamo contenti di poter avere diverse opportunità perché possiamo fare una sorta di terapia personalizzata e scegliere nel singolo paziente quello che è l'inalatore a lui più adatto oggi sono disponibili nuovi inalatori che non richiedono una particolare coordinazione e quindi facilitano la corretta inalazione condizione critica soprattutto in pazienti anziani da pochissimo abbiamo una nuova tecnologia che è in realtà una terza classe non appartiene né all'una né all'altra assomiglia un po' diciamo agli MDI agli inalatori pressurizzati predosati ma in realtà è una tecnologia molto diversa che fa una sorta di piuma soffice che può essere inalata al paziente in maniera più semplice perché è una piuma che viene erogata più lentamente che quindi richiede minore coordinazione e questo è un grande vantaggio ad oggi questo dispositivo è utilizzabile per i pazienti che hanno la bronchite cronica ostruttiva quella che la gente comune chiama in qualche modo enfisema enfisema polmonare grazie a tutti